8, 30, 33, 40, 64, 78, numero Jolly 42, numero Superstar 59. Sono questi i numeri vincenti che hanno portato alla super vincita al Super Enalotto da oltre 42 milioni e 500 mila euro. La fortuna ha baciato la giocata fatta nella tabaccheria Nicolini sulla Stata Lottanta a Villaripa, frazione di Teramo. Si è trattata di una giocata quick pick da un euro. Questo significa che i numeri sono già scritti sul tagliando. Basta solo quello giusto. Signor Donato Nicolini, 42 milioni e 500 mila euro vinti con una giocata probabilmente da un euro? Sì, molto probabilmente da un euro e sono tantissimi soldi. Avete ricevuto una chiamata a qualcuno che vi ha ringraziato in maniera anonima? No, non abbiamo ricevuto nessuna chiamata, ancora non si va a giudere nessuno, non sappiamo chi possa essere. Questo comunque è un bar molto trafficato, tante le persone che vengono perché è un bar di passaggio, definiamolo anche così. Sì, si può definire così, sì, siamo sulla nazionale quindi c'è molto traffico e di conseguenza noi non riusciamo neanche a immaginare chi possa essere il vincitore. Ci può raccontare un po' ieri come è andata la giornata, o meglio la serata? Ieri in particolar modo è capitato che io non ero fuori sede, ero fuori Teramo, sono stato a Montesilvano. Di conseguenza io non ero al corrente di nulla e mi hanno telefonato e mi hanno detto alcuni suoi colleghi di questa vincita. In realtà non ci credevo all'inizio, pensavo fosse uno scherzo telefonico di un amico, invece poi era vero. La fortuna ha baciato questo territorio, c'è qualcosa che lei vorrebbe dire al vincitore? Dico innanzitutto che sono molto felice per lui, mi fa molto piacere, è una cosa molto bella che lo possa rendere felice. Ovviamente possa dare qualcosa al territorio? Sì, al territorio sarebbe importante, visto che è una zona che avrebbe anche bisogno, sarebbe veramente una bellissima cosa, di aiutare a chi serve. Grazie a tutti.